Benvenuti esploratori e viaggiatori omni planetari. Posate gli occhi sul pianeta natale di 2x2, Koros. Una terra selvaggia dove sopravvivono solo i più forti. Koros è la casa dei Tetramand. Guerrieri il cui orgoglio risiede è nella loro forza. Le quattro formidabili braccia sono il loro biglietto da visita, ma anche le gambe non scherzano. I Tetramand mettono costantemente alla prova la loro forza innegabile in arene costruite per i giochi gladiatori. Le femmine Tetramand sono più potenti dei maschi e vengono viste come avversari e temibili. Ma i Tetramand non sono le uniche creature potenti di Koros. I guerrieri devono anche affrontare delle bestie pericolose nelle prove di sopravvivenza e non sono bestie normali. Come i Tetramand hanno anche se sviluppato molteplici parti del corpo per resistere a un mondo in guerra. Ma tutto questo non è un problema per la signora dei Tetramand, perché, indovinate un po', è stata di nuovo incoronata campionessa. Siamo sopravvissuti alla visita e lo spazio profondo ci sembra più sicuro, quindi partenza! Siamo sopravvissuti alla prossima! 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 Siamo sopravvissuti alla prossima!